cari amici del blog il maestro sei tu benvenuti su salvo 5.0 questo è un messaggio dedicato a voi voi che seguite il blog il maestro sei tu beh il vostro blog vi parla di consapevolezza e vi parla del fatto che ognuno di noi può essere maestro di se stesso bene il messaggio che io cerco di lanciare con il mio pecoglioni italia tour è molto simile io ritengo che tutti noi a causa di un lavaggio del cervello di svariati decenni siamo tutti un po addormentati un po pecoglioni pecoglioni un neologismo che ho inventato che è l'unione delle parole pecoroni e coglioni secondo me descrive molto bene noi italiani non vuole essere un modo offensivo di definirci semplicemente un dato di fatto noi siamo tutti un po addormentati appunto a causa del lavaggio del cervello che abbiamo subito in tutti questi decenni però possiamo svegliarci possiamo aumentare il nostro grado di consapevolezza questo è quello che si propone di fare il pecoglioni italia tour vi invito a venire a visitare l'evento e il gruppo facebook che trovate proprio cercando pecoglioni italia tour troverete nel gruppo la possibilità di vedere come si fa come come organizzato il tour potete anche prenotare una tappa nella vostra città e aiutare me e gli altri amici che mi stanno dando una mano nella organizzazione del tour è un tour nazionale che coprirà tutto il paese invece nell'evento troverete il lancio ufficiale appunto questo evento che si svolgerà sabato 16 aprile del 2016 a bologna presso il royal hotel carlton bene vi invito tutti a visitare l'evento ed eventualmente a venire a trovarci sabato 16 aprile a bologna per il lancio ufficiale del pecoglioni tour e potrete anche conoscere molti degli esseri umani che fanno parte della comunità di salvo 5.0 quindi cari amici del maestro sei tu impariamo ad aprire gli occhi impariamo a svegliarci impariamo a diventare ogni giorno sempre meno pecoglioni cercate pecoglioni italia tour su facebook l'evento e il gruppo seguiteci dateci una mano e cerchiamo di svegliarsi tutti insieme grazie ciao a tutti